Popolo di internet, qua piove, c'è anche Paolino, ci sono anche altre entità, c'è il signor Travatar C'è anche il nipote di Toretto che però non vuole dire nulla Torettino si chiama, Torettino Allora abbiamo già visto, no spoiler, abbiamo visto Diana Jones il quadrato dell'intestino No abbiamo visto Red Reckoning che è una bomba atomica Che bello, l'Indiana Jones che avrei voluto vedere Comunque piove veramente tanto, adesso dovremo tornare alle nostre auto Guarda come piove, ma Remma Cinghiava come piove E' già lo vittimo a 2 minuti, oh cazzo No infatti no, l'oretta di strada, vabbè comunque se arrivo vivo a casa vedrete questo video Assolutamente, guardate, iscrivetevi al canale dell'uomo che sapeva il nostro Che già si state vedendo questo video Assolutamente sì, intanto ci sono messaggi sul gruppo che abbiamo Ricordiamo una cosa importantissima, compleanno di Michele Innocenti Tu volte tanti auguri anche di pronta guarigione perché si è rotto la gamba Si è rotto la gamba, già due volte nel giro di... Già ce l'ha piccino Secondo me si è rotto il cazzo però Perché lui vuole fare Tom Cruise Vuole fare Tom Cruise Quanto sarebbe bello Ethan Hunt, Michele Innocenti Mi prego qualcuno di voi E ora quando si butta giù dal lago Mission Impossible 7 Dead Reckoning Parte 1 Sì, prima parte del film di Christopher McQuarrie con protagonista ovviamente Tom Cruise Vi siete goduti un intro bagnato all'Arcade di Melzo perché insomma è esploso un temporale mica da ridere alla fine del film Ci ha permesso vabbè di stare lì un po' a chiacchierare e poi di affrontare la pioggia Per tornare a casa Benvenuti, benvenuti Se è la prima volta che passate da queste parti Io sono uomo che sapeva troppo Per gli amici uomo E vi invito nel caso ancora non l'abbiate fatto A cercarmi anche su Twitch Qua sotto nel video nella descrizione Trovate il link per raggiungermi sul canale Twitch Dove facciamo un sacco di live Pop a tema film, fumetti, serie tv, videogiochi Leggo tutti i vostri commenti Insomma Venite, venite perché ci divertiamo un sacco a interagire assieme in live Ma oggi siamo qua per parlare appunto del settimo film di Mission Impossible Che ha avuto una lunga lunga lavorazione travagliatissima Per via del Covid, per via della pandemia Ha avuto almeno due stop Ma forse sono stati pure di più Per meno quelli più ingenti che ricordo erano almeno due Con Tom Cruise che sfuriava sul set Ma ci siamo, ci siamo È tornato Ethan Hunt Deve salvare il mondo ancora una volta Questa recensione sarà senza spoiler Nella prima parte Poi ne farò Ma tranquilli che vi avviso Quindi state pure qua Quando poi raggiungeremo la parte spoiler Andatevene, restate se siete curiosi Vi aspetto però una volta che l'avete visto Ritornate qua e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Se farete degli spoiler Magari segnalatelo, scrivete spoiler Per evitare di rovinare eventualmente la visione a chi Potrebbe incappare in qualche commento Mission Impossible parte 7 Io sono un grande fan della saga Che ho scoperto in tarda età Ma che insomma Ho visto più volte Non tantissime rispetto ad altre saghe Penso per dire Indiana Jones Con il quale sono letteralmente cresciuto E ho divorato più volte molti dei film Ma li ho visti tutti un po' di volte E tutti alla fine mi sono piaciuti Io di solito metto alla fine il terzo capitolo Seguito credo dal secondo Poi dal quinto, primo Quarto e sesto Sesto primo film Più o meno è quella la mia classifica Che è sempre mutevole comunque Anche perché è una saga che Di cui trovo molto Quanto meno dignitosi tutti i film Anzi anche buoni direi Non è una di quelle saghe Dove alcuni film sono superiori Di parecchio ad altri Per me è molto omogenea Nonostante i primi Siano chiaramente molto diversi Tra di loro anche per via della regia Degli anni in cui sono usciti Mentre invece dal quarto in poi E poi con l'arrivo di McQuarrie Nel quinto sono molto molto più omogenei Che dire di questo Mission Impossible Mi è piaciuto tanto 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 È un film pieno d'azione Azione folle Abbiamo forse Alcuni fra gli stunt più folli Della saga Con un Tom Cruise Che non si ferma mai Nonostante l'età Abbiamo una minaccia gigantesca Una minaccia tecnologica Che fa sforare la saga Nella fantascienza vera e propria Perché qua siamo proprio Nella fantascienza Cosa che potrebbe Non piacere a tutti Questa cosa Voglio subito metterla in chiaro Anzi Il più grosso problema Secondo me Del film Se dobbiamo trovarlo È La sceneggiatura Non tanto in termini Di ciò che accade Quindi di svolgimento Di trama Ma Dei dialoghi Insomma Della scrittura Dei dialoghi Che ogni tanto Sono bizzari Sono particolari Bisogna un po' Entrare in un mood In alcuni punti Molto più onirico E strano E in altri punti Non lo so Più Più romano Un mix fra il romantico E il Bizzarro Il Cartunesco So che Potrei farvi Far Alzare più di un sopracciglio Con queste affermazioni Ma lo capirete poi Nel caso vedendo il film O se l'avete già visto Magari concorderete con me Ci sono un paio di scene Dove i personaggi Dialogano fra di loro In cui ho pensato Ma cosa sto ascoltando Ero un po' Quasi tirato fuori dal film E ci sono delle cose Forse anche difficili Da credere Se cercate una certa Vero somiglianza Con la realtà Cosa che io non faccio Con la saga di Mission Impossible Secondo me È sbagliato farlo È una saga che ha sempre Rilanciato se stessa Anno dopo anno Arrivati al settimo film Chiaramente si doveva Arrivare alla minaccia Suprema Che di solito In ambito Comunque scientifico Per non andare a tirare fuori Il fantasy O il divino Doveva Doveva arrivare E però Questa specie di enorme Nemico Di enorme problema Da risolvere Per me è solo Un'enorme scusa Per riflettere Su alcune cose Io ci ho trovato Dei parallelismi Con L'altro Grande Film Di Tom Cruise Che ha salvato Il cinema Lo scorso anno Cioè Top Gun Maverick Che ci parlava Un po' Di questi Jet Che si pilotavano Da soli La fine Del pilota Come essere umano Perché la macchina Lo sostituirà Non vi voglio dire di più Diciamo che Già è uscito un po' fuori Nelle interviste Già sembra parlarne Un pochino La stampa L'ha accennato Cruise Vi dico solo che Il tema Intelligenza artificiale Si fa Si fa Piede No Prende piede In questo In questo settimo film Film appunto Che però Mi è piaciuto tantissimo E al netto Di queste cose Un po' strane Di sceneggiatura Appunto C'ha delle scene action E dei momenti Di epicità Spionistica Che per me Veramente Cancellano Qualsiasi eventuale problema Possiate avere Con Quello che il film Racconta Film che fra l'altro Racconta anche Molto dei personaggi McQuarrie l'ha detto Grazie alla divisione In due parti Ci siamo concentrati Anche tanto Sulla natura Dei personaggi Ci racconta anche Un po' di Ethan Hunt Più di quello Che hanno fatto Paradossalmente Tutti gli altri film È un film Che si capisce Che ha l'intento Di essere l'ultimo Della saga Probabilmente Sia come minaccia Che come ricerca Interiore del personaggio Oppure nella Chiaramente semplicità In una saga Come Mission Impossible Certo Poi Tom Cruise ha detto Che vorrebbe continuare A interpretare Ethan Hunt Fino a 80 anni Forse dopo aver visto Indiana Jones Però che succeda Non succeda Un po' l'aria Da ultimo film Questo Questo Dead Reckoning Parte 1 Ce l'ha Una parte 1 Che è una parte 1 Quindi questo Ve lo voglio dire Senza spoiler Non è Diciamo come Across the Spiderverse Per chi Ha seguito anche Il film d'animazione Della Sony Quindi non ha un cliffhanger Così tagliato È più diciamo Un Grande primo atto Un 1 A 0 Insomma Un Ci sarà un momento In cui O Il Taranto O il Nemico Appunto Avranno Prevalso Sull'altro E Si riparte Poi nel Prossimo film C'è chi Mi ha citato Prima di andare in sala L'impero colpisce ancora Secondo me Siamo da quelle parti lì C'è un'enorme battaglia Succede una cosa C'è una missione La missione Impossibile Di questo film Comunque trova Suo compimento Ma poi Chiaramente Bisognerà Fare altro Nel prossimo film Vi lascerà Chiaramente La voglia di andare avanti Non è un film Conclusivo Però ecco Non è nemmeno Veramente Ita Nanta Appesa a una montagna Che sta per cadere Vivrà Non vivrà Chissà E taglio netto E finisce il film C'è comunque una sorta Di momento conclusivo Ma poi ne parliamo Magari Nella fase Spoiler Ho qua due appunti Vabbè Segnalo Ellie Etwell Che arriva No La Agent Carter Dell'MCU Arriva nel mondo Di Mission Impossible Bravissima Tornano Ving Rhames Come Luther C'è Simon Pegg Come Benji Che qua Ha dei bellissimi Siparietti con Ethan Ma non è troppo Invasivo Come è capitato In altri film Torna Rebecca Ferguson Anche lei Dal quinto e sesto film Come Elsa Faust Torna Vanessa Kirby Come Vedova Bianca Fantastica Veramente Meravigliosa Torna Eugene Kittredge Il personaggio di Kittredge Dal primo film Che Già dai trailer Si Si vedeva E È bello Perché c'è C'è proprio questo Grande collegamento Della saga Dal primo Al Si presume Ultimo film Anche se Nella sua parte Non è Così gigantesca Non è così preponderante Ma ha almeno Un bel paio di sequenze Secondo me Che lo rendono Molto meritevole C'è Carrie Elves Che ha una parte Anche qua Molto molto piccola Ma insomma A me Io sono un grandissimo fan Di Robin Hood Un uomo in calzamaglia Lui era Era Robin Hood Nel caso il nome Non vi dica nulla Sono un grandissimo fan Di La storia fantastica Con Andre the Giant Film fantasy Degli anni 80 Capolavorone Dove lui era il protagonista Faceva Wesley Insomma Carrie Elves Era anche il dottore Del primo show Che poi tornava Nell'ultimo Come grande collaboratore Insomma Carrie Elves Dai Se lo vedete in faccia Non posso crederci Non lo riconosciate Esai Morales Fa il nemico del film Gabriel Devo dire forse Uno dei lati Più deboli del film Lui poi tra l'altro È un cattivo Quasi di rimando Rispetto ad altro Non voglio dirvi di più Non ha forse Questa grandissima parte Probabilmente Troverà modo Di esprimersi di più Nel secondo film Ma fa quello che deve fare Lo fa molto molto bene Non sto dicendo Che non Non abbia saputo Far valere Le sue doti recitative Però chiaramente Secondo me Si mangia tutti Ma tutti La vedete anche qua Nella copertina Con il suo trucco Un po' clownesco Anzi da domatrice POM Clementif POM Clementif Che forse Credo la maggior parte Del pubblico Che vedrà Mission Impossible Conosce per Essere stata Mantis Nei Guardiani della Galassia E se proprio Non seguite la Marvel Siete capitati di qua Quasi per caso Visto che io sono Un grande fan È quella con le antennine Dei film Dei Guardiani della Galassia Se proprio Non sapete di cosa Sto parlando È una cattiva Meravigliosa Che Parla poco Ma agisce tutto In Fa tutto con Gli sguardi Con il corpo Il movimento L'aggressività Risatine Urla Con pochissimo Fa veramente Veramente tanto Io l'ho trovata Conturbante Meravigliosa Spietata Pomme Clementine Che veramente Fa una Mantis Fa l'opposto di Mantis In questo film È stata bravissima Tra l'altro Il look che ha anche In cover Non è una gimmick Tipo da Super Cattivo Marvel State tranquilli No Ci sarà un motivo Per cui poi è truccata In quel modo Ma non resterà truccata In tutto il film Io l'ho trovata Fantastica Forse per me È la vera sorpresa Del film È la miglior sorpresa Del film Perché mi ha Mi ha veramente stupito Mi ha stregato E boh Fatemi poi sapere Cosa ne pensate Perché l'ho trovata Veramente magnifica Il film ha qualche problema Sì abbiamo detto Una sceneggiatura Bizzarra Proprio più in termini Di dialoghi Qualche problema Registico Perché ci sono Almeno un paio Di scavalcamenti Di campo Bruttarelli Paradossamente Più che nelle scene D'azione Dove succede Anche in alcuni Momenti di dialogo Credo sia dato Dal fatto Che il film è stato Veramente Distrutto Dalla pandemia E Anche in fase Di montaggio Probabilmente McQuarrie Abbia avuto qualche Mancata scena Qualcosa che non Poteva rigirare Hanno dovuto un po' Accontentarsi Di tutto Con il materiale Che avevano tirato fuori Per alcune scene Che non potevano Rifare Assolutamente Anche qua Per me non sono problemi Che minano il film Magari Se vi ci focalizzate Potrebbero disturbarvi Ma dovete Secondo me Essere molto attenti E molto dentro Il cinema d'azione Per anche solo Notarli Secondo me E Anche appunto Avendoli notati Magari se per un attimo Ho detto Non è bellissimo Questo passaggio Di camera Però La messa in scena La coreografia Delle scene Veramente fa Cancellare tutto Senza spoiler Vi racconto Le cose che si vedono Anche nel trailer Il famoso lancio Con il paracadute Una sequenza Sul treno Che arriverà poi Verso la fine del film Che si vede Nel trailer Molto Uncharted Se siete dei Videogiocatori Sappiate che c'è Tantissimo Uncharted Più Uncharted Qua forse Che nel film Effettivo Con protagonista Tom Holland C'è anche tanto Metal Gear Solid Questa cosa Delle intelligenze Artificiali Non sto paragonando Non sto dicendo Che siano simili O che la scrittura Di Kojima E quale di Macquarie Si vadano a influenzare Ma secondo me Macquarie Un po' fan Di Kojima Ma questa cosa La capiranno solo I videogiocatori Appunto Quindi se non lo siete Fate come Finta che io Non abbia detto nulla Restate più Sul Uncharted Anche se C'è molto Videogioco In quella sequenza Che non sto lì A citarvi C'è la sequenza Con la 500 a Roma Che è quella più Veramente Cartunesca Più bizzarra Più divertente E divertita Che però Io ho trovato Straordinaria Avrei voluto Durasse E già dura Tanto Ma io avrei voluto Durasse altri 20 minuti Senza problemi Il film ha un gran ritmo 2 ore 40 Io non l'ho sentito affatto Paradossalmente Ho sentito di più La prima parte Finché il film Non ingrana un attimo Sono rimasto Un attimino Ho detto Ok però andiamo 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 Ma non è comunque Un intro Lunghissima Quando poi Il film esplode Perché si capisce Cosa si deve fare Non si ferma mai Ci sono dei momenti Di pausa Dove si può tirare il fiato Non arriverete Col fiato corto Ma veramente Un film super incalzante E da quel punto di vista Secondo me È straordinario Ci sono delle scene Non voglio dirvi di più Ma nel caso Andrete a vederle Una in un vicolo Stretto 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 E un'altra Ammietata a un party Molto surreale Quasi linciano Anche qua Non voglio scomodare Il maestro David Lynch Grandissimo Intoccabile Uno dei miei cineasti Preferiti Però Veramente Ci sono dei momenti Onirici Che quasi Mi hanno fatto dire Ma sto veramente Vedendo un film Di Mission Impossible Mi piace Mi piace Questa follia strana Che Mettuori Ha voluto tirare fuori Questi estremismi Che Dopo il sesto capitolo Già verso la fine Del sesto capitolo La buttavano La buttavano un po' Di fuori Super soddisfatto Super soddisfatto A me è piaciuto tanto Un pregio anche A Lorne Balf Che ha Sempre parlando di videogiochi Fatto il bello e il cattivo tempo Nella saga Di Assassin's Creed Anche qua i videogiocatori Lo conosceranno bene Soddisfatto Soddisfatto Ci sono delle criticità Che secondo me Potrebbero Magari Rovinarvi un po' La visione del film Ma Per me Veramente Spariscono Di fronte alla grandezza Di quello che il film Ci vuole raccontare Con questa riflessione Appunto Sul Anche un po' La fine Si può dire Delle spie Come ricordavamo Ha veramente Di parallelismi Con Maverick Secondo me Non sono Non sono casuali E' un film Questo Mission Impossible Che sa Di Legacy Sequel Anche se non lo è Legacy Sequel Ne abbiamo parlato parecchio Negli ultimi mesi Perché Indiana Jones Ghostbusters Legacy Lo stesso Top Gun Maverick Questo riprendere Le saghe Dopo anni 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 Con i protagonisti Un po' Invecchiati Mission Impossible E' ovvio che non è Un Legacy Sequel L'ultimo film Del 2018 Ma Sarà per i 5 anni Di pandemia Sarà per Non lo so Il retropensiero Del film Ha comunque Un po' Il sapore Quasi Del Mission Impossible Che ritorna dopo Anni 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 Cosa ripeto Non così vera Ma un po' Di quello Io ce l'ho comunque Percepito Forse per Quello che vogliono Raccontarci Cruise E McQuarrie Dico anche Cruise Perché Pur il film Non essendo firmato Da lui Chiaramente Essendo produttore Essendo molto presente Sul set Dirigendo gli stunt Volendo raccontare i tanant Dopo Praticamente Anni Anni Che lo impersona Chiaramente Il suo Insomma Un po' Di cruise Anche nella sceneggiatura Si sente Film Super promosso Fatemi sapere cosa ne pensate Tornate qua Quando lo avrete visto E adesso Passiamo alla parte spoiler Quindi mi raccomando Fuggite Se non volete sapere Niente di più E ripeto Nel caso Venite a cercarmi su Twitch Cercatemi Nei vari social Tutti i link Stanno qua sotto E ci rivediamo Poi quando Avrete visto il film Mi raccomando Tornate Per ascoltarmi E poi commentare Perché voglio sapere Cosa ne pensate Occhio agli spoiler Scrivete spoiler Nei commenti Momento Momento spoiler 3 2 1 Fuggite 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 Parte spoiler Allora Intelligenza artificiale C'è questa intelligenza artificiale Creata dai governi Che viene buttata Su un sottomarino russo Degli americani Ma Puff Prende vita Prende vita E tra l'altro Si autosabota Probabilmente Per nascondersi Dato che Il modo per disattivarla Sta proprio In quel sottomarino Ci sono queste chiavi Che possono aprirlo E che poi finiscono Sul mercato nero E diventano un po' Il McGuffin Del film Mi è piaciuta Questa cosa Ripeto È molto È fantascienza pura Questa entità Che appunto Nella scena del party A Venezia Molto onericalista Dialoga con i personaggi Con questi suoni Con questa musica Credo composta Appunto Da Lorne Balf Sempre a Venezia C'è quella lotta Fra Paris Pond Clementine E l'altro uomo Con Contro Ethan Con degli shot Veramente Meravigliose Ci sono dei momenti Di questo film Che si possono Inquadrare E mettere Veramente Fare un album Di foto Di wallpaper Di sfondi Per il telefono Di sfondi per il telefono Di tutto quello che volete Di quadri Perché ci sono veramente Delle inquadrature Meravigliose Se fermiamo Se fermiamo L'immagine Un'altra Oltre a Venezia È sicuramente Alcune delle parti A Roma Ci sono appunto Il party Con queste luci E queste che filtrano Sotto i portici Di Venezia Veramente Macquarie Mette in scena Delle Degli shot Veri proprio Delle foto Quasi In movimento Che sono straordinarie C'è tutta la parte Sulle alpi Alla fine Il famoso salto Con lui che si lancia Con il parapendio Che si vede anche Appunto Nei trailer Si vede nel Nel poster È diventato L'emblema Del Del film Anzi Io Nei biglietti Che mi ero dato All'Arcade di Mel Ho beccato Fortunatamente Proprio quello Del lancio Anzi mettiamolo così Anche perché Credo questo sia Il giusto modo Di tenerlo Non muore Kittridge Kittridge Ritorna dopo Il primo film Tutti abbiamo detto Vabbè Torna per morire Come succede sempre In questi sequel Slash Film finali No Non succede Anzi Anche una piccola evoluzione Il personaggio Quando poi si interfaccia Con Grace E li Etwell Entra di fatto Ormai Nella squadra Nella divisione Per le missioni Impossibili C'è Purtroppo Diciamo La morte Di Rebecca Ferguson Della sua Ilsa Faust Che però serve un po' Da motore Per tutto il film Anzi Non per tutto il film Servirà poi Per portare avanti Il film Nella suo Grande atto finale Sul treno Pum Clemative L'ho detto È straordinaria Il passato Di Ethan Hunt Questo film Riflette molto Su Come Ethan Usi Il gentil sesso In qualche modo Per Cercare sempre I suoi obiettivi Forse è legato Un incidente Che ha avuto Da giovane Proprio tra l'altro Con Gabriel Un passato Forse Un po' Posticcio Però succede sempre Nelle ultime pellicole Che si voglia un po' Scavare Nel passato Dei personaggi E quindi Ci sta Averlo voluto Inserire In questo Presunto Ultimo film Anche però Come motore Per la narrazione Visto che Gabriel Su questa cosa Punta Punta veramente Tanto Sono curioso Di vedere Cosa succederà Nel prossimo film Ripeto Le scene D'azione di McCuory Sono fantastiche Tutta la parte Con la 500 Per le strade di Roma Che poi è una 500 Potenziata In realtà Quindi anche se succedono Cose impossibili Non è come i tuk tuk Di Indiana Jones È comunque Una macchina Potenziata Dalla 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 Mission impossible E quindi Risulta comunque Un po' più credibile C'è tantissimo Di Lupin C'è tantissimo Di Lupin Io credo che McCuory Sia un fan Del ladro gentiluomo C'è proprio un momento Fujiko Lupin E Zenigata Anche perché Ethan viene braccato Per tutto il film Letteralmente Da Da Zenigata Quindi mi sono molto divertito In quelle scene A Roma È un film molto potente Un film veramente potente Con un Tom Cruise Che ci crede tantissimo Un Tom Cruise Che vuole Raccontare il cinema Probabilmente Nei suoi Ultimi film Però Raccontando allo stesso tempo Il gran finale Delle sue saghe Di due delle saghe Che lo hanno Reso famosissimo Anche se Top Gun Di fatto È un unico film Diventato un cult E Ribadisco per l'ultima volta Sempre che questo Dead Reckoning Parte 1 e parte 2 Siano effettivamente Gli ultimi film Della saga Non c'è molto altro Da dire Credo Fatemi sapere Nei commenti Appunto Se l'avete visto Cosa Cosa ne pensate Quali sono Le vostre sequenze Preferite C'è una sequenza Iniziale Nell'aeroporto Veramente Veramente figa Molto Molto spionistica Con le facce Un inseguimento Di corsa Per cercare Questo individuo Fantasma Che non si trova Con il riconoscimento Facciale C'erano dei momenti Molto divertenti C'è tanta Italia In questo Mission Impossible Venezia Roma C'è un italiano All'aeroporto Tanta Italia Il cinema Si sta spostando Parecchio In Italia L'ultimamente Dopo Indy Anche Ethan Hunt Torna In Italia Perché già l'aveva fatto Nel terzo film Di J.J. Abrams Mi è piaciuto Ripeto Mi è piaciuto I difetti non mancano Alcuni di voi Potrebbero magari Trovarli Se vi focalizzate Troppo Su quel che il film Ci vuole raccontare A livello di sceneggiatura Proprio Di Fantascientismo Fantascientifica Potreste staccarvi Non credere Veramente a niente Di quello che devono fare E perdere un po' Il divertimento Se invece vi lasciate Cullare Da questa deriva Possiamo dirlo Un po' più Fantascientifica Un rilancio Della posta in gioco Molto più alto Se vi lasciate Cullare Da questo Poi le scene D'azione I momenti d'azione Tutto quello che arriva Sono talmente Straordinari Ragazzi Che veramente Uscrete dalla sala Con gli occhi A cuoricino Io non vedo l'ora Non vedo l'ora Di rivederlo Per me Super promosso Viva il cinema Viva Mission Impossible Viva Tom Cruise E assolutamente Assolutamente Non vedo l'ora Di rivederlo E di vedere Cosa succederà Nella parte 2 L'anno prossimo Speriamo Perché tra sciopero Degli sceneggiatori E adesso Anche degli attori Che a quanto pare Sciopereranno Al 100% Forse Non riusciranno A ultimare le riprese È vero che manca Solo uno stunt Magari Tom Cruise Potrebbe comunque Farlo in questi giorni O quando dovrà farlo E poi Tirare fuori il film Che praticamente È quasi completo Ci ha detto Christopher McQuarrie Quindi non dovrebbe ritardare Dovrebbe arrivare appunto A giugno Del 2024 Grazie per avermi ascoltato Fatemi assolutamente Sapere nei commenti Se vi è piaciuto o meno Discutiamone Senza ucciderci Senza maleducazione Mi raccomando Se fate spoiler Scrivete spoiler Noi ci vediamo In giro per la rete Venite a cercarmi Su Twitch Fatelo Venite live Se ancora non mi seguite lì Se magari non avete Nemmeno Twitch Fatelo È semplicissimo Vi scrivete Come per Youtube Potete commentare live Rispondo a tutti i vostri commenti Ci divertiamo un sacco Venite a cercarmi Qua sotto Ci sono tutti i link Compresi anche dei link Per sostenere il canale E poi fatemi sapere Appunto nei commenti Cosa ne pensate E ci vediamo Un prossimo video Ciao 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 Ciao